facendo stamattina perché stiamo andando a nessuno abbiamo perso la fatta più di merda finito non c'è altro da dire né tre che hanno giocato ne siamo 20 25 ci dobbiamo allenare ancora di più dobbiamo dare ancora di più tutti le chiacchiere poi le chiacchiere che stiamo nella missione non chiacchiere parliamo allora se no poi dopo andiamo ha sbagliato quello ha sbagliato quello perché quando è entrato mazzocchi ha fatto bene quando è entrato lì ci ha fatto bene quando è entrato simonetti a padova ha fatto bene saporetti allora ieri capitava la giornata scorta per tutti dal primo minuto da quando abbiamo fatto l'inizio e poi dopo se dobbiamo a trovare stiamo dicendo solo hai detto ha sbagliato quello non mi hanno fatto no come la storia faccio del nasa io ho detto solo che da messa non ha trovato le risposte che c'è ma sbagliare negati che da essi ma se lo pensi è giusto se lo sai se lo prendiamo ci cambiamo e tu non sbagli mai no io sbagliare no e ci credo e sti gaspiti no ma Grazie a tutti.